La cosa sbagliata, dice Bruschetta, in mia opinione, è privarsi di molto oggi per avere più risparmi da investire, senza avere un chiaro obiettivo futuro. Sì, aggiungo una cosa. Tu dici, Bruschetta, la cosa sbagliata è privarsi di molto oggi per avere più risparmi da investire senza avere un chiaro obiettivo futuro. Quello è molto sbagliato. Però di per sé, se la privazione ti dà gioia, se l'esercizio di minimalismo, ma che poi non è necessariamente connesso, se l'esercizio di rinuncia di tante cose che la gente reputa benessere, può dare gioia di per sé, può essere un valore di per sé. Quello non lo critico. C'è gente che si accorta che risparmiando era più felice, perché comprava cose che non aveva bisogno, danneggiava il pianeta. Avere un'impronta più leggera sul pianeta è una cosa che dà gioia. Cioè il monaco buddista che spende zero ed è già fire, è felice di quello che fa, ha meno possedimenti, è più robusto, è più resiliente. Se imparo a ripararmi il rubinetto da solo, io provo gioia, adesso non ho più neanche il tempo di pensarlo, ma provo più gioia, mi dava gioia, risparmiavo soldi. Non era un sacrificio, era un'acquisizione di skill retribuita che avrebbe migliorato le mie capacità finanziarie per il resto della vita perché i rubinetti me li riparo da solo e che forse se divento pure bravo a fare questo qua posso anche ripararli agli altri e avere una fonte di reddito, quindi diversificare ulteriormente le possibilità. Questo, se a te dà gioia, se a te dà gioia risparmiare di più, imparare a fare le cose in prima persona, essere più frugale, più minimalista, può essere un valore di per sé anche senza avere un piano su cosa facci con quei soldi. Tendiamo troppo a vedere la privazione come una cosa brutta, delle volte è bello, delle volte è bello. Io per tanti anni ho provato molta gioia a spendere, io ora sto male perché spendo troppo. E c'è chi dice, ah hai problemi psicologici, no, siete malati come generazione, adesso è scontato spendere miliardi su tutto ragazzi, sono cresciuto che era bello fare le cose spendendo poco. I miei nonni erano tutti e quattro super frugali, ma super frugali che oggi sarebbero fuori dal mondo. Cioè mio nonno aveva i pomodori, mio nonno coltivava i pomodori, mio nonno mangiava il pane tre giorni prima, erano tutte le persone più sane e più tranquille che ho mai conosciuto. Io ambisco a raggiungere la loro felicità. La privazione può essere allenante, è la stessa cosa che c'è nell'elemento sportivo, no? Cioè perché dovrei andare a correre, a faticare quando posso prendere il motorino? Guarda che correre è bello, guarda che correre è bello, andare a fare sport è bello, allenarti, poi scopri che riesci a fare due chilometri, cinque, dieci, venti, riesci a fare una maratona. Oh ma si soffre una maratona, chi me lo fa fare per risparmiare energie in futuro? No, no, è bello, è bello anche di per sé. Nono Tom, bentornato, che ne pensi del modello Renaissance Man di Yael? Ovviamente, tu mi conosci, no Tom, sai che mentre parlavo avevo in mente Early Retirement Extreme, che se qualcuno sta lì, lo ce l'ho qui in libreria, e il modello di uomo rinascimentale è affascinante. Mi infastidisco perché non sto più lì, perché un tempo inseguivo quell'ideale, sono cambiato, il mondo mi è cambiato, la famiglia, le responsabilità, è tutto diverso, ragazzi. Il gioco single player può sperimentare, il gioco multiplayer è più complicato, però è fantastica, a me come idea, per me resta ancora una roba evergreen. Vabbè, lo prendo, sta qua, prendo il libro. Questo forse è il libro più importante nel mondo del Fire. Early Retirement Extreme di Jacob Lund Fisker. Quando si parla di Fire, spesso si citano Mr. Money Mustache, che è arrivato dopo, si cita Your Money or Your Life, che è arrivato prima, ma non era proprio di Fire. E questo è onestamente Fire a livello estremo, ultra frugale, in modo filosofico però, non del tipo risparmia tutto quanto solo perché così arrivi prima al Fire. È un libro filosofico di un ricercatore in fisica, che poi ha fatto dentro anche quanta analyst in hedge fund, e via. Quindi cosa ne penso? È un bellissimo ideale, un po' difficile. Flessibilità, adattabilità, sostenibilità, developer Renaissance skill, da non confondere con il medaglio on fund della Renaissance Technologies. Rain Tech. Com'è che ieri Ben Cameron l'ha chiamato? Oh, I would invest in Rain Tech. Rain Tech nel gergo finanziario è Rain Assange Technologies. Alcuni criteri, ripara delle cose da solo, basic health care, costruisci case, cucina, gardening, investire, plumbing, sewing, cucito. Affascinante, cioè affascinante. In Italia non posso non citare Narmenni e smettere di lavorare, quello che più c'è di vicino, che porta online i valori dell'early retirement extreme. Bruschetta, sono assolutamente d'accordo, anche io in prima persona sono felice di privarmi di cose, che non ci danno un valore aggiunto. Ragazzi è bello, è la stessa cosa, lo dico da non da un buon esempio, del fare attività fisica quando non la fai, o del mangiare meglio quando non lo fai. È più comodo mangiare cioccolatini, mettersi a dieta è faticoso, ma poi arrivano le gioie. Non so, io penso che ci sia, forse bisogno anche di portare questi valori sul canale. Ho voglia di fare un po' un ritorno alle basi e parlare anche di sped, di frugalità, di minimalismo e di cose del genere. Non sono un buon esempio in prima persona però. Ho visto un video dove uno flexava di aver speso 200k per un'auto e per me erano assurdi i commenti. Sei un grande se spendi tanto e non se spendi poco. Che non ha nessun senso da un punto di vista razionale, è come invidiare uno che si è fatto male. Questo è bellissimo, tenevo che andava in direzione diversa il tuo commento. La gente non sa cos'è la ricchezza. La gente pensa che la ricchezza è invece di gente che si spende soldi. Cioè è come se stai giudicando un vino mentre uno lo rovescia per terra. Fa wow, com'era buono quel vino, guarda per terra che strane macchie che fa. La ricchezza è dei soldi che non spendi, non so quelli che spendi. Quelli che spendi sono lifestyle, non è ricchezza. Però sono scelte. Quindi uno che spende 200k per un'auto, io direi cazzo mi spiace, spero che ti piaccia a sufficienza perché sei meno ricco di 200k, cazzo. Hai molte meno opzioni, spero che in più non solo. Una macchina 200k dovrei assicurarla per bene, mica la puoi parcheggiare per strada, dovrei prenderti un garage, minchia ti sei committato a 200k one off e poi ti costerà 2k al mese, trappure benzina, mica consumerà la benzina che consuma la mia, che non ho. Minchia ti sei committato a 200k adesso e un pick e un pack negativi ti sei fatto. Cazzo, spero che ti dia gioia perché altrimenti mi spiace per te. Quello lì è il mio commento. Rentec, non Rentec. Eh, Renaissance, no, Renaissance, Renaissance, Rentec, Rentec, ok? Rentec quando piove. Rentec. Grazie.